buongiorno a tutti allora dopo aver fatto il video spiegazione scusate c'è sempre il bronchino di riace che viene su io ragazzi miei preferisco farvelo il video spiegazione perché poi non vorrei che poi a qualcuno succedesse qualcosa di brutto per quel motivo lì ma non perché ripeto centro io non centro un kaise ero assolutamente estraneo alla vicenda mi avvisavano che appunto le persone che avevano combinato qualcosa nei miei confronti in maniera gratuita poi hanno fatto una brutta fine quindi lasciando perdere questo andiamo a parlare di spalcomo che ho intravicchiato diciamo perché era nello stesso orario di interiuve quindi ho visto il primo quarto d'ora più o meno tra cui anche il gol di ghiozzi e poi una parte del dell'inizio secondo tempo in cui ho visto prendere il palo no il palo no ho visto quelle due tre azioni con ciaica ciaica che mi fomenta cia ciaica ciaica giocatore del como che è un missile salta tutti il problema è che non segna ecco mi sa che è lo stesso problema di jonsen giocatore tecnicissimo marocchino se non sbaglio fortissimo perché è veramente c'è un dribbling che gli ho visto l'ho visto partire palla al piede a metà campo ne ha saltati tre poi ha tirato un tiro ciofeca fuori di un metro e mezzo comunque ciaica un giocatore da tenere d'occhio è nel como comunque spalcomo uno a uno como in vantaggio col buon ghiozzi che sfrutta una papera del portiere devo dire che l'altra sera il portiere della spalla ha lasciato molto a desiderare mentre invece dall'altra parte il portiere del como gori ha fatto delle ottime parate poi purtroppo sul gol ha potuto ben poco perché comunque il como forse ha tirato meno in porta ma ha preso due traverse clamorose a portiere non battuto battutissimo due tiri da fuori area boi insomma uno su un palo uno sull'altro per non farsi mancare nulla e alla fine prendi il palo prendi l'altra anzi prendi la traversa prendi l'altra traversa alla fine prendi il gol tra l'altro sotto rete perché colombo si incune in aria i due difensori cercano di fermarlo l'ultimo a toccare la palla e vignali che per anticipare il tiro dell'attaccante gliela butta nell'angolino basso e il povero gori non ci arriva comunque uno spalcomo una bella partita veramente 42 tiri totali 42 tiri totali forse era meglio se vedevamo spalcomo che non inter juve perché veramente inter juve è stata a parte poi vabbè la super sfogo sul fatto del calcio di rigore vabbè lì ci voleva ci voleva perché comunque ci voleva anche perché poi leggevo certe cose mi girano e anche stasera giustamente guardo sulla mia cosa e ancora le solite cose le solite salutami tizio ma basta ma fate le persone serie io mi auguro che queste persone qua che entrano sul mio canale siano minorenni perché già una persona di 19 anni che viene a fare queste battutine eccetera eccetera ragazzo mio se t'hanno dato la maturità è perché l'hai comprata perché se no francamente non si capisce io un comportamento così ve l'ho già detto lo faceva il mio compagno all'elementari in qua terza quarta quinta elementare facessi comportava così ma in terza quarta quinta elementare lo puoi anche capire ma già le medie comincia a essere una cosa che non si capisce comunque ognuno è libero di fare quello che vuole ragazzi miei se vi divertite così divertitevi io francamente vi lascio fare come diceva il buon san filippo neri buoni buoni state buoni se potete se non potete io non ci posso fare niente vi divertite a mandarmi messaggini salutami questo questo quell'altro e io smetterò di salutare perché mi sono stancato ecco comunque torniamo a spalcomo va che è stata una veramente una bella partita 42 tiri 29 tiri della spal e infatti vi dicevo che il povero gori ha dovuto fare gli straordinari era lì sempre che respingeva destra e sinistra una marea di tiri però il como ha preso anche due traverse a portiere battuto a portiere tra l'altro il gol è vero uno può dirmi gigi sì ma ha fatto un gol su una papperata assurda del portiere perché c'è questo tiro cross lui si inginocchia per prenderlo gli scappa neanche fosse in anguilla la palla torna verso il centro dell'area e c'è pronto ghiozzi a ributtargli perché li ha a due metri lui gli scappa su questo tiro la sotera tiro cross la sotera se la fa scappare e il buon ghiozzi l'ha messa dentro quindi però è colpa del vostro portiere o meglio del portiere della spal il pareggio arriva su un autogollonso quindi peccato perché è stata una partita in cui i gol potevano arrivare in altra maniera magari più belli e invece sono arrivati su un errore del portiere su un autogollonso con cui stavo dicendo 29 tiri a 13 per la spal 15 tiri in porta 7 per la spal però calcolando che il como ha fatto un gol e ha preso due traverse su 7 tiri poteva fare tre gol il como sta cominciando a vedere un attimino di più la porta questa comincia a essere una cosa un attimino molto molto importante perché nelle prime partite veramente segnava un gol e poi dopo basta creava 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 e non dà una beata Giovanna adesso se si comincia magari a creare le occasioni ma anche a sfruttarle in una maniera un attimino migliore questo como potrebbe allontanarsi sempre di più dalla zona bassa e puntare senza troppe velleità ma comunque provarci ai playoff adesso è presto però uscire indenni dal campo della spalla che anche se è un po in ambasce è sempre tanta roba veniamo al possesso palla 64 per cento del della spalla e 36 del como vabbè ma ci sta anche perché si vede dal predominio dei tiri in porta diciamo che è stato un bel tiro al bersaglio della spalla e che il como però nonostante le poche occasioni il suolo ha fatto per quanto riguarda i corner sono 10 a 4 per la spalla come è giusto che sia d'altronde attaccava molto di più lei il pareggio ci sta anche se ripeto quelle due traverse lì pesano abbastanza come macigni perché bastava che una delle due entrava tenete conto si era già sul 1 a 0 se si fossero andati sul 2 a 0 chiudevi il discorso e poi volevo sapere un vostro parere per soprattutto per chi segue il como io purtroppo non lo riesco a intravedere a spizzichi e bocconi e quindi vi posso fare solo una disamina generica molto generica eccetera non pretendete la luna ripeto è una cosa gentile nei confronti della della provincia che mi ha adottato cioè la provincia comasca e quindi siccome qui al lago ci sono anche tanti tifosi che come seconda squadra hanno il como e anzi quando il como torna in serie a loro tifano prima al como e poi la loro squadra importante che di solito è la juve perché qua è una zona molto di juventini ci sono anche gli interisti e i milanisti però tendenzialmente il 50 per cento sono giuventini e poi il resto del 50 per cento si dividono tra interisti milanisti e qualche tifoso di squadra del sud perché abbiamo tante persone che sono venute dal sud a lavorare qua al lago tra cui c'era anche un simpaticissimo ginecologo un po' di anni fa con cui ci trovavamo spesso al karaoke eccetera perché lui era bravissimo a imitare ramazzotti però adesso è tornato giuabari ha trovato lavoro giuabari quindi è tornato al suo paesello e quindi non abbiamo più avuto modo di rivederlo ragazzo simpaticissimo tra l'altro poi mi ricordo un napoli inter visto insieme ai tifosi del napoli con la sconfitta dell'inter 1 a 0 per la gol di higuain negli ultimi minuti era la cupa italia di ormai sei o sette anni fa ma alla fine della partita stretto le mani senza nessun problema cioè non è successo assolutamente niente ed è il bello di stare in in un paesino come questo anche ieri inter juve l'ho vista al bar circondato praticamente dai tifosi bianconeri anche se non era strappieno l'happy bar devo dire infatti erano tutti preoccupati il mio amico non è non è neanche venuto a vedere la partita fa no la vedo a casa del del nostro comune amico perché ci sarà casino invece eravamo una cinquantina di persone esagerando forse sono anche troppe 50 forse erano anche troppe il bar non era pieno stava bene bello tranquillo avevo il mio televisore davanti mi sono visto anche un po il como perché nell'intervallo mi mettevano sul sul como quindi mi sono visto anche un po di como e mi sta fomentando questo como probabilmente arriverà in una zona tranquilla della della serie b se va avanti così ma non lo vedo ancora pronto per per i play out anzi per i play off scusate a meno che a gennaio non rinforzino ulteriormente la squadra se a gennaio rinforzano la squadra due o tre innesti giusti libidine eh signori miei lo vedrai molto molto bene però bisognerà vedere la nuova dirigenza molto ambiziosa cosa vuole fare detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao